Stasera sono venuti fuori veramente forse tutti i valori nella partita che contava e top scorer si è stata tutta questa semifinale ma tutta la squadra questa sera ha fatto vedere di che pasta è fatta in maniera proprio a 360 gradi. Ma volevamo questa finale non l'abbiamo mai nascosto mi dispiace che delle volte vengano messe in discussione i valori di questa squadra o come la volontà di questa squadra perché assolutamente c'è c'è tutta non esiste pensare che una squadra non abbia voglia di vincere per arrivare in finale. Sono molto contenta sono contenta per questa finale adesso ci riposiamo speriamo qualche giorno un giorno e mezzo e poi siamo pronte cariche perché stasera volevamo veramente vincere a tratti ci siamo di nuovo un attimo perse senza ossigeno però poi sono venuti fuori di nuovi valori quindi va bene così. Dovesse essere Taranto la finalista in regola del season state amare esperienze però adesso il tempo è rivincita. Io continuerò a dirlo finché non mi stanco che i playoff sono i playoff per cui è un altro campionato le cose cambiano poi è il campo che parla per cui pensiamo a stasera godiamoci stasera e poi penseremo alla finale. Chica sei tornata diciamo così al momento giusto forse al massimo della tua forma o quasi. Ma mi dispiace di essere stata messa così tanto in discussione perché io ho sempre fatto il mio ovviamente ci sta nella stagione avere degli alti e bassi ho avuto un campionato di Eurolega super in campionato non è assolutamente il non aver voglia di giocare le partite di campionato perché questa serie finale lo dimostra. Per fortuna la palacanestra è un gioco di squadra non è individuale non è il tennis non è il golf per cui la forza del gruppo alla fine viene fuori stasera l'ha dimostrato. Ultima domanda su questo pubblico straordinario l'ennesima volta. Assolutamente straordinario non ha mollato un centimetro ci ha sorretto nei momenti di difficoltà e bene sono molto contenta si è visto il grande pubblico delle finali che è quello che voglio rivedere fra tre giorni durante la finale. Ciao Kika!